buona serata a tutti cari amici da nicola da lucia una grande chiusura di giornata con la new basket brindisi che sbanca pesaro e va in semifinale batte sassari 91 ad 86 nella gara di coppa italia del massimo campionato di a1 di palacanestro italiana vittoria dei pugliesi quotata bene 280 275 289 270 per quanto concerne la cronologia dell'incontro i pugliesi sono stati vantaggio nel primo periodo nel secondo nel terzo nel quarto c'è stato un po più di equilibrio con il lo sprint finale dei brindisini che appunto ha permesso loro di arrivare in semifinale che brindisi sfiderà la vincente della sfida che si giocherà tra poco meno di un'ora sembra pesaro tra brescia e fortitudine bologna e chissà che domani nella semifinale la nostra brindisi pugliese non possa trarre un vantaggio e andare in finale mamma mia solo a pensaccio mi vengono i brivi dalle zambogni sto scherzo e ribadisco brindisi batte sassi il 91 ad 86 e vola in semifinale noi ci vediamo domani buona serata e buonanotte ciao ciao ciao